Raga, faccio un video perché questa è una motivazione molto importante. Bugo si è rifatto vivo e mi ha detto che mi vuole portare in tribunale. Io gliel'ho detto. Io in tribunale non vado, Bugo, non mi piace il tribunale. Portami, non lo so, che ne so, al parco, portami alle giostre, portami in una sala proprio e qualsiasi cosa a suonare, portami al cinema, non so se i cinema sono aperti adesso. Comunque, questo è il succo del discorso. Perché? Perché mi devi portare in tribunale? È un posto che non mi piace il tribunale. C'è brutta gente, poi urlano, fanno casino, fanno un sacco di domande, Bugo. Non mi portare in tribunale, ci sono qualsiasi altri posti, potresti portarmi anche in cantina, a casa tua, a quello che vuoi, a fare anche il giro dell'isolato, ma in tribunale no. È una cosa che proprio non accetto, ma dal profondo, dal profondo proprio dell'inconscio, cioè non lo posso accettare questo. Dai Bugo, ti do la soluzione. Te l'ho sempre data io la soluzione. Portami a prendere un gelato. Così i 250.000 euro di risargimento li vado itali.